Ottima prova per la prima squadra dell'Arezzo Calcio Femminile che tra le mura amiche del Roberto Lorentini ottiene il secondo punto stagionale contro le Venete del Calcio Padova a terza forza del Girone B della Serie Cadetta. Un pareggio che vale quanto una vittoria sia per la brillante prestazione espressa dalle retine, sia per i gol che hanno iniziato a fioccare anche in casa Maranto. Costretta a rinunciare alla centrocampista Verdi, ferma per una giornata di squalifica, l'allenatrice Maranto opta per un modulo 4-4-2 schierando fin dal primo minuto Antonelli tra i pali, Casula, Terini, Tece e Mencucci in difesa, Baracchi, Arzedi, Paganini e Mattiaccio a centrocampo, Nocchi e Zeghini in attacco. Il match inizia con qualche minuto di ritardo e fatica a decollare a causa del campo reso pesante dalla pioggia caduta copiosamente durante la notte. Dopo alcuni tentativi a Maranto al 41esimo il Padova passa in vantaggio con Giubilato che su assist di Ferrato avanza in aria insaccando alle spalle di un incolpevole Antonelli. Nella ripresa l'Arezzo torna in campo con grande determinazione e già al 49esimo trova il gol del pareggio grazie a una bella diagonale di Nocchi che finisce diretta all'incrocio dei pali spiazzando l'estremo difensore Padovano. Le a Maranto salgono in cattedra e non tarda ad arrivare il vantaggio. Su punizione Casula lancia in aria dove trova Terini pronta a trafiggere la rete avversaria firmando il 2-1. Il Padova prova a reagire e al 29esimo giunge al pareggio con Cattuzzo che sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Peruzzo sigla la rete del 2-2. A poco servono i quattro minuti di recupero assegnati dal direttore di gara. Il match si chiude con un buon pareggio che migliora l'umore di capitantici e compagni in vista della sfida interna del prossimo weekend contro il Sassuolo. Manuela, quest'oggi è arrivato un punto, potrebbero arrivarne anche tre volendo. È stata una partita da due volti per la rezza. Sì, intanto sono molto contenta della prestazione. Abbiamo fatto qualche errore, ci mancherebbe, ma questo è il nostro processo di crescita. Una partita che potevamo vincere, ci dovevamo credere un pochino di più, però devo essere sincera, non posso dire niente alle ragazze. Oggi mancava anche un perno a centrocampo come Laura Verdi, le altre si sono comportate benissimo, abbiamo fatto due gol, a San Marino ne abbiamo fatto uno, adesso ne abbiamo fatti due quest'oggi e quindi continuiamo a lavorare. Noi dobbiamo solo lavorare e credere in noi stessi. Questo risultato ci dà buone potenzialità.